I carabinieri del nucleo operativo di Sansevero nel corso di un'operazione di contrasto ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti hanno scoperto e smantellato una vera e propria narcosala allestita in una masseria nelle campagne di Sansevero circondata con pannelli in lamiera per impedire di vedere cosa accadesse all'interno ed arrestato il 29enne Giuseppe Marinelli con precedenti penali. Oltre allo spaccio all'interno della struttura era possibile anche consumare la droga appena acquistata. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto 100 grammi di eroina, diverse dosi di cocaina già pronte per la vendita, tutto l'occorrente per il confezionamento e 700 euro provento dallo spaccio. All'alto dell'irruzione, all'interno della sala, erano presenti 5 giovani, tutti trovati in possesso di una dose di stupefacente appena acquistato. Sempre a Sansevero i carabinieri hanno arrestato il 38enne tunisino Mouez Salah con l'accusa di atti persecutori, lesioni e minacce aggravate e porto abusivo di armi. L'uomo non accettava la fine della relazione con la compagna interrotta da 8 anni e continuava a molestarla con telefonate e messaggi ingiuriosi, appostamenti sotto la sua abitazione e minacce di morte. L'ultimo grave episodio è il ferimento con una pietra dell'attuale compagno della donna e l'aggressione con un coltello al padre della stessa.